siano dato gesù cristo benvenuti sul mio blog walterson.it questo è un video che uscirà tutte le mattine dalle 8 dalle 9 alle 10 e sarà un video soltanto per ricordarvi dell'importanza di acquistare i libri cartacei prima che sia troppo tardi quindi l'escrizione vi lascio i link per questa pagina del mio blog dove potrete cliccare per acquistare o scaricare i libri io vi consiglio sempre il libro cartaceo del manuale della sopravvivenza della fine dei tempi dove sono raccolte tutte le piante medicinali date dal cielo all'uzio di maria insieme allo scapolare viola e insieme ai rifugi di preghiera che sono delle indicazioni che il cielo ha dato ad altri mistici come lo scapolare viola per trasformare la propria casa in un rifugio di preghiera in un cenacolo di preghiera e attraverso le scorte di cibo attraverso i sacramentali come lo scapolare viola dove gesù ha promesso a maria al suor maria giulia genni che coloro che avrebbero indossato lo scapolare indossato lo scapolare viola con la croce e la medaglia benedetta e avrebbero pregato con lo scapolare viola in riparazione della santissima trinità le loro case sarebbero state protette dai flagelli e dalla guerra troverete nel mio blog anche il libro della mia testimonianza e il libro sulla sull'avvertimento universale e il libro sull'inferno io vi consiglio soprattutto il libro sull'inferno è un libricino che ho realizzato e che costa veramente poco con il quale possiamo regalarlo e possiamo farlo conoscere ai nostri fratelli e sorelle soprattutto in questo periodo dove si possono fare tanti regali e il regalo più bello è far conoscere ai nostri fratelli e sorelle che fanno un cammino cristiano o si sono scordati di un cammino cristiano di questo libro meraviglioso che ci parla attraverso i santi e i mistici dell'esistenza dell'inferno io vi porto tutti nelle mie preghiere e come sempre iscrivetevi al mio canale fate conoscere questi video sia lodato gesù cristo nel cuore macolato di maria sia lodato gesù cristo benvenuti fratelli e sorelle continuiamo la lettura del libro di suor maria la testa la mistica delle maraviglie siamo sul primo libro dio e la santissima trinità continuiamo la lettura con il quinto capitolo e richiamiamo in noi lo spirito santo a leggere e meditare questo capitolo due amici sinceri lontani uno dall'altro non si accontentano solo di pensare all'amico vogliono anche vedersi di tanto in tanto e queste visite questi incontri aumentano il loro affetto reciproco amo molto il salvatore gesù ma sento che potrei amarlo di più e amarlo sempre di più è l'anelito più intimo nel mio cuore ecco perché mi recco il più spesso possibile a rendergli visita nel sacramento dell'altare la gli ho parlato per molto tempo da sola gli dicevo poche cose non sapevo dirgli che queste parole o mio gesù ti amo oppure gesù ti dono il mio cuore o ancora signore aumenta il mio amore per te poi quando lo lasciavo gli dicevo come addio mio salvatore benedici la tua umile serva il salvatore gesù mi ha ascoltata per molto tempo senza farmi sentire la sua voce in modo sensibile ma tuttavia sentivo come una voce interiore che non pronunciava parole e questa voce dolcissima e suavissima mi diceva anche figlia mia ti amo figlia mia io accetto l'offerta del tuo cuore figlia mia ti benedico ed io mi allontanavo felice da quando mi ha permesso di sentire la sua parola ho notato che succedeva sempre nel luogo santo durante l'offerta del sacrificio sull'altare sovente aspetta di essere sceso nel mio cuore e allora comincia a parlarmi altre volte lo fa duramente altre volte lo fa durante il ringraziamento raramente mi ha parlato prima della santa messa però qualche volta l'ho fatto quando lo sento lo vedo faccia a faccia allora si verifica in me come un cambiamento improvviso che non saprei spiegare mi sembra di essere sola con il salvatore gesù non vedo più nient'altro non ho più né occhi né orecchie per gli oggetti sensibili che sono intorno a me non sento più nulla i miei occhi vedono il salvatore gesù le mie orecchie non odono il salvatore gesù il mio cuore non ama che il salvatore gesù tutto il mio essere non ha sentimenti per il salvatore gesù che gesù ecco cosa mi ha detto un giorno parlandomi dell'uomo dio ha creato l'uomo il corpo dell'uomo è stato fatto di terra dalle mani di dio l'anima dell'uomo è stata creata dal soffio di dio soffio pieno di vita che ha animato il suo corpo quindi l'inizio quindi inizio all'uomo non esisteva e dio l'ha tratto dal nulla e quando ha cominciato ad esistere l'uomo rimaneva ancora un nulla poiché non ha potuto esistere muoversi o agire finché dio non ha completato la sua esistenza gli ha dato il movimento gli ha fornito l'azione ecco perché l'uomo non dovrebbe mai fidarsi di se stesso contare su di sé aspettarsi qualcosa di se stesso ecco perché l'uomo non dovrebbe volere che quello che dio vuole e fare quello che di ordina così l'uomo rivolgerebbe il suo sguardo verso dio e non verso la terra camminerebbe verso dio e lo aspetta e che l'ha creato per lui e non verso la menzogna e la verità che diventano la sua condanna l'uomo viene da dio e deve tornare a lui ci sono due atteggiamenti dell'uomo uno del suo essere creato da dio verso la vita e l'altro del suo essere vivo verso dio questi due atteggiamenti sono dati all'uomo da dio attraverso di loro l'uomo se vuole ritornerà infallibilmente a dio ho detto se vuole perché l'uomo può cambiare la direzione di questo atteggiamento dio all'inizio aveva creato l'uomo aveva fatto grande e felice gli aveva dato un mondo di cui era il re un paradiso di cui era il padrone l'aveva stabilito suo rappresentante in terra lo ha fatto il dio visibile nel mondo per rendere omaggio al dio invisibile nel cielo lo aveva reso l'anima del mondo e la sua anima era quella attraverso cui il mondo offriva a dio il suo amore il suo spirito era quella attraverso cui il mondo riconosceva il suo creatore il suo dio così doveva essere l'uomo perché l'ordine era questo quest'ordine era stato distrutto il secondo atteggiamento che dio aveva dato all'uomo affinché ritornasse a lui l'uomo lo modificò per accogliere l'atteggiamento del principe delle tenebre da allora l'uomo non combinò più nella via di dio che la verità e gli scelse la via di satana che la menzogna il secondo atteggiamento dato all'uomo nel suo creatore doveva essere ambientato per sempre ma la misericordia di dio si oppose al trionfo di satana venni quindi a bloccare l'atteggiamento dell'uomo infermo offrendo all'uomo la forza di poter di poterlo abbandonare la forza e potere di abbandonarlo mostrai di nuovo all'uomo la verità mostrai di nuovo all'uomo la via fece ancora di più gli ridonai la vita che aveva perduto oggi ogni uomo riceve come l'origine la prima aspirazione il primo movimento che lo lancia nella vita ma il secondo movimento che rilancia l'uomo vivente verso dio non gli viene più dato insieme al primo il secondo movimento lo spinge vivente verso la morte ma io sono là per riprendere l'uomo attraverso il battesimo e rimetterlo sulla via che conduce a dio allora tutto sia giusta l'uomo è rigenerato e camminerà se lo vuole verso dio o ritornerà a satana da cui l'ho liberato camminerà nella verità o nella menzogna vedete fin dove arriva la bontà di dio non ha voluto che io salvassi solo una volta l'uomo dalla via della perdizione ma ha voluto che ogni ora del giorno in cui l'uomo griderà verso dio io accorressi verso di lui per ridargli la vita e la sua aspirazione verso il creatore attraverso il sacramento della penitenza ecco quello che dio ha fatto per l'uomo e che fa ogni giorno e l'uomo cosa fa per dio si può forse capire l'ingratitudine dell'uomo verso il suo creatore e il suo dio dio è il benefattore fermamente è quotidiano dell'uomo e l'uomo è un ingrato che dimentica ogni giorno quello che dio fa per lui sia lodato gesù cristo nel cuore vacolato di maria l'uomo dimentica ogni giorno quello che dio fa per noi brevemente facciamo questa riflessione dio crea e ricrea l'universo che fine faremmo noi se non ci fosse un ordine di amore di armonia nell'universo tra le grazie e tra i sistemi solari gli angeli e gli uomini e donne immortali redenti da nostro signore gesù cristo che governano insieme agli angeli l'universo senza di loro come potremmo noi sopravvivere a innumerevoli impatti di asteroidi o a innumerevoli super tempeste solari ecco che la terra piena di vita e piena dell'amore della nostra Santissima Trinità riceve una protezione da l'esterno che altrimenti causerebbe la fine della vita sulla terra stessa e dio si prende cura di tutti i pianeti di tutte le galassie di tutti gli universi dio ci dona le stagioni ci dona soprattutto il soffio della vita con il quale possiamo dire io sono io esisto io vivo io comprendo io amo io odio io peccato ma voglio da oggi avere gratitudine verso la Santissima Trinità che mi ha dato la vita e mi ha dato la coscienza cioè l'anima di comprendere che io esisto che dio esiste e questo ci deve portare ad amare dio ogni giorno dicendogli Signore ti amo ti amo con la tua santa e divina volontà grazie per avermi creato grazie per questo meraviglioso giorno illumina il mio cammino benedici questo tuo servo vieni a fonderti in tutte le mie azioni volontari e involontarie nelle mie rinunce perché tutto possa essere fatto per la tua gloria e non per la mia grazie a tutti